Si intitola Un bimbo sull'esene, è partito tutto da lì. Poi ha storica etichetta AFI, da tantissimi anni associati, riceve il premio AFI, realizzato dal maestro Orofo Michele Affidato, Orofo ufficiale del festival di Sanremo, un grazie particolare all'ufficio stamparai, alla Sony che ci ha concesso in questo momento, vi lasciamo correre, so che avete una conferenza, e tutti i colleghi che sono qua e ho lo staff di Fiorella che si è dimostrato gentilissimo. Grazie Presidente.